Imprese di nuovo welfare, come sviluppare progetti e comunicarli in rete. E' questo il tema del nuovo percorso organizzato dalla Casa Comune MAG, la Società Mutua per l'Autogestione di Verona. Un percorso nato nell'ottica di formare sempre più persone al nuovo modo di intendere e quindi vivere l'economia sociale, caratterizzata allo stesso tempo da libertà di mercato e giustizia sociale. MAG Verona si occupa di economia sociale da praticamente 40 anni e all'interno della rete di MAG esiste anche un coordinamento di imprese che si occupano di welfare generativo e di welfare di territorio, in particolare imprese sociali che si occupano di educazione e di cura alle persone. Da questa rete è nata l'esigenza di rafforzarsi per riuscire a meglio dialogare con la pubblica amministrazione e con i territori per costruire servizi che sappiano rispondere sempre più e sempre meglio ai nuovi bisogni emergenti. Quindi da questa analisi, diciamo, di bisogni è nato questo percorso formativo che aiuterà queste imprese sociali a costruire un nuovo welfare di territorio. Ma che cosa vuol dire oggi creare questa nuova rete, uscire dalla vecchia strada? Vuol dire puntare sull'innovazione sociale, puntare sul coinvolgimento del territorio e delle persone che li abitano. Lavorare in questa prospettiva vuol dire costruire servizi generativi di benessere che partono veramente dai bisogni, dalle esigenze delle persone che abitano una comunità, uscendo da magari prospettive più istituzionalizzate e quindi meno flessibili, meno capaci di adattarsi a ciò che oggi realmente serve, anche attivando risorse inaspettate che magari la pubblica amministrazione da sola non è in grado di raggiungere. Molte le tematiche affrontate nel corso, dalla rigenerazione dei beni comuni, alla sussidiarietà circolare, l'attivismo civico, dall'inserimento lavorativo al valore del fare rete. L'obiettivo degli incontri che si svolgeranno fino al prossimo 23 aprile è quello di potenziare le reti di relazioni, anche facilitando e mediando scambi tra i partecipanti per supportare azioni di cooperazione. Un argomento, quello dell'economia sociale, al centro anche del volume Le imprese sociali tra mercato e comunità, che sarà presentato sempre lunedì sera alle 18 presso la libreria ed emporio culturale Libre. Proprio per comunicare questa nuova prospettiva e farla conoscere anche la cittadinanza in modo da farla uscire solo dal mondo degli addetti ai lavori abbiamo organizzato per il 12 marzo prossimo un incontro presso la libreria Libre assieme alla Lega Coop del Veneto per presentare proprio la prospettiva del welfare generato da imprese cooperative di comunità. Le ricerche ci dicono che questo filone di economia sociale è in espansione che sta generando molto benessere in vari territori e quindi ci piacerebbe che anche nella provincia di Verona riuscissimo a portare questo tipo di nuova cultura. Grazie 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 Grazie